che giornata ma ma mia e non è finita no scusa scusa no scusa ma tu per un attimo anche solo per un attimo hai pensato e creduto che io ebbè ultimamente tutte le sere ho mal di testa mi fa male la testa tutte le sere le sere in cui ho 20 pazienti in studio ma quando non ho 20 pazienti oggi ne ho avuti 3 e cosa è successo oggi prima cosa è successo prima quando non ti sei accorto no cosa è successo ho sentito ero sul letto sdraiato sentito come un peso un montagnone sopra meno male che cioè è durato solo 30 secondi perché se no era erano le 9 un quarto sono le 12 un quarto beh ci hai messo solo un'ora e mezza toglierti le carte perché c'è un mal di schiena questa gente guarda che andando avanti sarà anche peggio ti deve abituare poi ti ho sentito scusa se te lo dico leggermente rilasciato in questo punto qui guarda te lo posso far vedere questo punto qui sei leggermente rilasciato ma io non sto in postura se sto in postura tocca adesso perché prima l'avevi proprio l'avevi proprio il chiappone bello così